Forse, da come si legge sul web, potrebbe esserci, diciamo così, un'alleanza o meglio, diciamo così, una vera e propria collaborazione tra Ferex, ossia il buono rapper Federico Lucia e Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico di La Zanzara su Radio 24. I fatti, diciamo così, che non adesso, non ora, non attualmente parlando, ma potrebbe esserci un podcast in onda sulla sette che entrambi potrebbero andare a condurre congiuntamente parlando. Va bene? Diciamo quindi che potrebbe avvenire questo idillio, questa alleanza, questo, chiamiamolo, legame lavorativo, o meglio, professionale tra i due, dove entrambi, con ogni probabilità, potrebbero andare a condurre questo podcast insieme. Sarà Muschio Selvaggio? Si chiamerà Cerbero Podcast? Sto scherzando, ovviamente, però, sembra che il messaggio similino sia diventato virale sul web, anche se è ancora difficile da interpretare in maniera autentica, quindi concreta. Però, non ora, ma forse ci sarà, eventualmente parlando, un podcast sulla sette, questa rete emittente che se non va errato è di Urbano Cairo, è lui appartenente, appartiene. Grazie a tutti i carissimi esibili utenti di Youtube, il video termina qua, iscrivetevi, se ne va, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.